Il Desenziano del Garda Il Desenziano del Garda Il concerto della banda dipartimentale di La Spezia E la parata, il raduno del 16 mattina E la mostra durerà fino al 23 È una mostra interattiva Significa che chi la visita potrà utilizzando delle console Dei pc praticamente Interagire come se fossero dei simulatori di plancia E svolgere delle attività come se fossero a bordo di un sommergibile Così come in accademia al simulatore di plancia Gli ufficiali imparano a seguire le manovre Praticamente correttamente a secondo di quello che si presenta in mare L'evento è stato voluto da me l'altro anno E ho insistito Domenico ne ha preso atto E si è dato da fare per organizzarlo Perché è tutto organizzato dal gruppo Il Desenziano L'abbiamo voluto interregionale allargato al nord Italia Per cui come dicevamo prima abbiamo la Liguria, il Piemonte Le due delegazioni piemontesi Le quattro della Lombardia L'Emilia Romagna Il Triveneto E praticamente non c'è il Friuli Perché sono molto lontani Si sono detti indisponibili ad arrivare fin da noi Lei pensa a quante persone ci sono? Quanti marinai? Al momento come ho detto prima Siamo a 500 presenze certe Però conto che ci siano i soliti Diciamo dell'ultimo momento Che arriveranno magari quelli più vicini Che sono a circa 100 km Che perciò ce la fanno Andate a ritorno con la vettura A venire anche parecchi altri gruppi Ricordiamo che ci sarà anche un concerto Della banda vostra C'è un concerto che è previsto per sabato sera Della banda dipartimentale Di Marina Nord E come diceva prima il Presidente della Liguria Sono 25-26 elementi Che non solo eseguono marce militari Tipiche marina militare Ma si dilettano anche in brani sudamericani E altra musica leggera Domenico Giardinetto è il Presidente Della sezione di Senzano Amni Associazione Nazionale Marinai d'Italia Siamo sull'Audigardo Ovviamente non avremo i marinai come voi Che siete sulle navi Comunque questo incontro Questo raduno In cui sarà la Marina Militare Italiana Ma soprattutto i sommergebilisti Perché voi farete anche questa mostra Per far conoscere questa realtà Che non è che la vediamo tutti i giorni Certo Allora la mostra è importante Anche per capire un po' Come funzionano i sommergibili nostri Siamo abituati di solida A vedere le navi Noi in televisione I sommergibili non le vediamo Navigano sott'acqua Questa invece è l'occasione Per dare modo Alla gente Alla popolazione di Senzano E non solo di Senzano Di ammirare una bellissima mostra Che sono dieci anni Che opera già nel territorio nazionale Attraverso dei pannelli descrittivi E dei filmati E delle console Perché la mostra è interattiva Si può tranquillamente Fare un percorso O un corso Va bene Sui sommergibili Al termine del quale Chi si vorrà cementare In tutto il percorso Gli verrà rilasciato un diplomino Come aspirante sommergibilista Ringrazio ovviamente il libro a tutti Soprattutto diciamo ai ragazzi I giovani L'ingresso è assolutamente libero È rivolto ai bambini di 5 anni Come ai nonni 99 anni e oltre Va bene Perché al gioco È un gioco Tutti possono assistere e giocare Desenzano del Garda Capitale del Garda Lago di Garda Ovviamente non poteva Dimenticare i marinai Il comune di Senzano Guido All'inverno Il sindaco di Senzano Ha voluto assieme Alla associazione nazionale Marinai d'Italia Alla associazione di Senzano Dare spazio Dare spazio sia al palazzo turistico Per quanto riguarda la mostra Ma anche ad un Raduno interregionale Dei marinai Quindi avremo Abbiamo visto Il presidente con la sua divisa Giusta Marinaresca Avremo le strade Invasi da queste divise Guido Noi siamo felici Di organizzare Assieme all'associazione Marinai d'Italia Questo evento L'evento È importantissimo Perché Presenta varie opportunità Che vanno Dalla mostra interattiva Curata dalla stessa Marina Militare Per la quale Abbiamo dato la disponibilità Della nostra Galleria Civica Inoltre Ci sarà anche Un convegno bellissimo Sulla storia Di sommergibili Organizzata Tenuta da una professore Della Accademia Navale Per cui Sempre dal punto di vista Della Marina Italiana E poi Tutte le sfilate Che si faranno Ovviamente anche Abbastanza suggestive Con un folto gruppo Di marinai presenti Il fatto che venga Organizzata Desenzano È importante Come diceva prima Uno dei due Rappresentanti Di marinai d'Italia Loro non sono solo Marinai di acqua salata Ma anche di acqua dolce Ovviamente E l'elenco Di tutta quella Che è stata la presenza Della Marina Militare Sul Lago di Garda Fino ai periodi Ante Unità d'Italia È stata molto interessante Devo dire Che abbiamo anche La Guardia Costiera Che è sempre Marina Militare Presente Con un folto numero Di militari Mi sembra circa 30 Con sede al Salò Che comunque Patugliano tutto Il Lago di Garda E anche In occasione Della nostra notte Di incanto Dei fuochi Di artificio Abbiamo avuto La fortuna Di collaborare Con loro In quanto La vedetta È uscita Sullo specchio La quale Per evitare Che le barche Si avvicinassero Alle piattaforme Di lancio Dei petardi La sezione Che comunque Comprende anche Altri comuni Qui a Desenzano È molto attiva Abbiamo anche Il monumento I marinai Nella zona Tra la fraglia E la maratona E quindi È un atto dovuto E poi credo Anche che La presenza Di tante persone In particolare Di appassionati Della storia Dei marinai D'Italia Darà Un ulteriore Senso Di Di Diciamo Di visibilità Un po' di visibilità Anche se credo Che non manchi Per la nostra città E il connubio Lago E marinai Credo Che sia Ovviamente Assolutamente Più che indicato Quindi marinai Di acqua Il cigliogino Sulla torta Sulla festa Casualmente Non è stata fatta apposta Ci saranno anche Le frecce di tricolore Proprio domenica Nel clou Della vostra manifestazione Che passeranno Sul lago Quindi qualche scia Di colore Tricolore Lo vedremo Anche Devo dire Su questo Che ho avuto L'onore Di parlare Come il comandante D'Aeronautica Per la parte Tutta l'Altitalia Che è un generale Di squadra aerea Il generale Frigerio Ovviamente Nei loro protocolli Non sono previsti Divagazioni Perché ovviamente È un protocollo Molto ferro Anche dal punto Di vista Della sicurezza Eccetera E diciamo Che molto probabilmente Nel rientro Può darsi Che nel rientro Dalla manifestazione Sul volino Anche Desenzano Ovviamente Non ci saranno Particolari colorazioni O atti Diciamo Di tipo Legate Alla manifestazione Principale Però Devo dire Che insomma Sulla frecce di colore Per l'anno prossimo Ci metteremo in pista Sicuramente anche noi Presidente Associazione Marinare Per l'anno prossimo Per l'anno prossimo Per l'anno prossimo Per l'anno prossimo